La Capsula Incubatrice Figlio mio, immenso orgoglio! Il tuo potenziale latente è davvero prodigioso! Ho saputo che hai intenzione di inviare mio figlio Broly su un lontano pianeta con una sfera, è così? Io crescerò Broly come il più forte dei guerrieri! Potrebbe non restarci molto tempo. Freezer sta tramando qualcosa di spiacevole. Direi che questa finalmente è l'occasione perfetta per cancellarli per sempre insieme al loro pianeta. Devi sopravvivere, assolutamente mi hai capito! Oh! 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 Grazie a tutti.